Salve a tutti amici di Transformers da JustLuca di Autorobo.it e benvenuti all'ultima video recensione del 2021 quindi ho pensato di dedicarla alla classifica dei migliori 10 Transformers di quest'anno asterisco, nota a margine, i migliori Generation Transformers che ho compreso io quest'anno e ovviamente usciti per carità giustamente quest'anno Generation Kingdom e Studio Series che è la linea diciamo più commerciale ma anche per adulti, collezionisti adulti e volendo anche bambini per carità senza scomodare le due punte estreme di tutta la linea dei Transformers che sono appunto Mario Cyberverse per bambini più piccoli e giocatori più semplici o anche i Masterpiece ancora più per collezionisti più adulti quindi diciamo che fanno a classe a sé senza poi andare a buttare un occhio al mercato dei tre picchi e se no se inizio a collezionare anche quelli addio stipendio e quindi teniamoci qui su questi bei Generation e ovviamente ce ne sarebbero da dirne che sono comunque sono usciti parecchi mediamente belli per essere dei Generation eccetera eccetera però ho cercato, volevo fare una rosa bella concisa di cinque nomi ma alla fine ho detto, ho iniziato ad aggiungerci qualche menzione d'onore quindi vabbè facciamone dieci però magari qualcuno dirà no era perché non hai messo questo perché non hai messo quell'altro, ripeto quelli che mi hanno colpito di più quest'anno a livello di giocattolo di personaggio eccetera iniziamo quindi dal buon piccolo Megatron Core che appunto per essere un Core da 15€ era davvero molto carino ovviamente poi andate a guardare le recensioni specifiche di ogni giocattolo qui che menzionerò il piccolo Megatron Core non è affatto male per essere un Megatron appunto da 15€ si trasforma in cannone assai snodato e ben dipinto passiamo al nono posto con il bel Soundwave Memor versione appunto Core anche lui ah sì ovviamente come giocoforza andando su di di classifica si passa ovviamente magari dalle classi più piccole a quelle più alte perché sennò non sarebbero tali e costose appunto se non presentassero modelli degni di essere nelle eventuali primi posti di eventuali classifichi di eventuali appunto fan i collezionisti e quindi il nostro nono posto è occupato dal piccolo Memor qui nella versione di piccolo Mangiacassette davvero un piccolo gioiellino che giustifica praticamente tutta la la classe Core potremmo dire andate anche a vedere la sua classifica il suo video passiamo ora a un ottavo posto ex equo potremmo dire occupato dai fossilizer dato che di cui però ho ancora solo due devo prendere l'ultimo pezzo che è wing finger ma a prescindere mi ha sorpreso davvero molto positivamente questa classe di Transformers dell'evoluzione dei dei weaponizer a livello di appunto di fossili assemblabili che diventano armi armature ma anche insieme al terzo elemento un gestalt assemblato a parte quindi davvero molto interessante molto carini molto ben fatti e tutto per quanto possono essere ripeto particolari e appunto andatevi poi a leggere a leggere si beh anche a leggere ma a guardare le video recensioni dei nostri passiamo a Blackarachnia al settimo posto Blackarachnia mi ha stupito davvero molto assai la versione di Blackarachnia molto fedele alla versione diciamo cinematografica cartoon del personaggio anche qui davvero ben fatta a livello di trasformazione di robot magari il ragno un po' pretestusetto potremmo dire però alla fine davvero bella ben fatta meritevole per i fan dei transformers in generale non solo per i fan di Beast Wars passiamo a un altro piccolo capolavoro deluxe sempre andando avanti su di classe cioè no anzi dopo i core siamo passati ai legend e abbiamo Warpath anche lui bella sorpresa diciamo di inizio anno davvero un piccolo capolavoro di masterpiece qui a ridotto potremmo dire deluxe un bel mini bot quasi deluxe quasi a livello di statura ma tra trasformazione dettagli e modalità alternativa è davvero bello immancabile nella collezione di tutti gli amanti dei generation classici e gli amanti dei G1 quinto posto per Cyclonus Kingdom dopo aver enunciato sì ho parlato finora di Kingdom ma appunto Cyclonus fa parte di Kingdom ma sappiamo che celebra il 35ennale del film del 1986 di Transformers diciamo non è stata proprio una sorpresa lui perché già si vedeva dalle foto comunque che era ben fatto bello fedele è tutto però lo stesso averlo è davvero una soddisfazione perché è bello grande ben fatto fedele ripeto eccetera insomma davvero ben fatto un bel un ottimo Cyclonus un ottimo Voyager da avere anche lui assolutamente passiamo poi a un altro Voyager e finalmente tiriamo in ballo gli Studio Series non che gli altri Studio Series ripeto sì tra l'altro devo fare una menzione d'onore magari a Jazz solo perché è Jazz potremmo dire ma comunque anche gli altri Studio Series non sono affatti ma affatto male come Blur Deluxe Cup eccetera però il nostro bel Rekgaard è davvero una sorpresa potremmo dire nella sua semplicità ma di divisione di questo robot comunque che migliora tantissimo ovviamente vabbè si parte dalla base del G1 potremmo dire che era davvero molto terra a terra ma questo Rekgaard ha proprio anche il livello di personaggio da aggiunge molto carisma al personaggio stesso appunto che personalmente non è l'avevo detto nella recensione che poi se volete andate a vedervi non era tra i miei preferiti ma alla fine è davvero quasi anche lui una specie di piccolo masterpiece di questi generation quest'anno ripeto sono tanto tutti belli ben fatti ma ripeto ho dovuto sceglierne quelli che più mi hanno colpito magari a livello emotivo o comunque di giocabilità e anche questo Rekgaard è davvero molto bello ripeto anche a livello di aspetto fisico di giocabilità anche il fatto di appunto di in quanto moto si può far guidare da altri personaggi tra cui il futuro suo repaint junkyard mi pare che si chiama quarto posto abbiamo detto buon Rekgaard passiamo al podio ovvero il terzo posto è per Megatron Beast War il Predacon leader di Predacon anche lui davvero ben fatto niente male sarà che comunque si trasforma in un dinosauro in un T-Rex viola comunque ha davvero il suo fascino bello bella trasformazione imponente il personaggio e anche il discorso che comunque rientrerebbe magari anche nei suoi famosi 60 euro che costano purtroppo i leader magari ultimamente si è trovato a meno io l'ho trovato a meno perché adesso sono i 50 però c'è magari un po' di zainone però l'effetto di questo Megatron Beast Wars fa davvero il suo effetto insomma comunque senza menzionare altri leader come Galvatr però ripeto se devo proprio scegliere un leader ho scelto un altro leader per carità ma comunque questo è davvero bello bello questo Megatron Beast Wars davvero rende bene il personaggio originale non come purtroppo è stato nel cartone nemmato omonimo di Kingdom visto su Netflix a proposito del buon Megatron Beast Wars ma comunque ben fatto la bella trasformazione ben fatto il il dinosauro il T-Rex e evocativo il nostro bel comandante Predacon passiamo al secondo posto gioco forza che sarebbe stata stato da mettere quasi come menzione d'onore menzione d'onore per il fatto di essere una classe a parte quella di Commander però si merita il secondo posto il buon Rodimus per quello che ha ad offrire ovvero un signor robot abbiamo visto recentemente proprio pieno di almi accessori e anche un signor rimorchio davvero pieno di effetti accessori eccetera eccetera anche lui per carità magari sempre di un discorso del prezzo che sono riuscito personalmente a pagarlo quindi sugli 80 euro che sarebbe il prezzo suo se Mari comunque anche i suoi 100 volendo li vale però siamo lì comunque un bel Commander al momento era un restio a prenderlo Mari era un po' ridondante per certi versi visto l'Otto Rod uscito per studio series eccetera ma alla fine insomma merita davvero anche lui sarà l'ho preso recentemente c'era ancora qui nel cuoricino e quindi però un secondo posto proprio a livello perché in quanto Commander pieno di dettagli giocabile rimorchio già detto sapete andate a vedervi comunque eventualmente di nuovo la recensione dove ne parlo primo posto e ripeto rifacciamo da nuovo il capello introduttivo nel fatto che comunque questi sono quelli che mi hanno colpito di più Transformers che sono tanti altri bellini usciti Optimus Primal Tigatron Galvatron per carità Cap Blur Studio Series e altri magari Studio Series versione movie che non ho neanche menzionato non ho neanche preso per carità e ripeto non so neanche fare una classifica dei peggiori perché se no neanche non li prendo i peggiori che cavolo vado a spendere soldi per roba che so già che è brutta quindi lasciamo perdere la classifica dei peggiori non so neanche se vale la pena farlo almeno riduttiva del 2021 e quindi passiamo al podio del nostro bel anno 2021 su un acquisto recentissimo ovvero il bel bellissimo trichex slug slug generation leader movie studio serie 76 7 ovvero appunto la versione leader del nostro del mio amato slug di missione triceratopo di cui devo fare ancora la recensione quindi andatevi vi lascio qui un attimo così basiti con lo spoiler con la perché questo Transformers è il primo posto per il buon jazz Luca lo vedrete nella prossima recensione che farò che parlerò di questo bel Transformers leader che comunque dico solo beh già si vede che come bel bestione così è davvero un'ottima versione di jazz di slug scusate che appunto da tanto bramavo e finalmente l'ho avuta e comunque è uno dei miei personaggi preferiti e ovviamente ha toccato le corde del mio cuoricino a livello appunto del fatto che secondo me è il miglior generation uscito quest'anno per me che comunque più più mia e non solo a livello emotivo ma secondo me anche tecnicamente e mi tocca per forza rimandarvi alla prossima video recensione che uscirò che uscirà dove ne parlerò ovviamente a livello esaustivo ma comunque sappiate che è davvero un ottimo bel Transformers questo questo T3 Chex Leader's Leg Generation Movie Studio Series 86 eccetera 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 quindi questa per carità ripeto è la mia personale classifica di 10 Transformers usciti quest'anno dei tanti usciti fra Kingdom e Studio Series relativa al solo di Generation fatemi sapere cosa ne pensate anche se ripeto comunque ripeto classifica personale magari ne avrò non menzionati alcuni che meritano magari tanti proprio non sono riuscito a prenderli quest'anno vabbè peccato però questi sono quelli che più mi hanno colpito quest'anno e quindi grazie per aver visto questo mio video intanto prima che mi dimentico buon anno per domani dato che questo video giustamente esce il 31 e quindi buon anno buon capodanno ancora buone feste buon 2022 ci vediamo ancora qui sul mio canale dove se volete iscrivetevi comunque mettete eventualmente mi piace a questo video condividetelo e poi ci vediamo andate a leggervi andate a vedervi poi le video recensioni di singoli giocatori che ho menzionato ma soprattutto vediamoci anche su facebook ovvero nel gruppo autrobot.it dove c'è la comunità italiana di fan dei transformers grazie ancora buon anno ancora buon 2022 e ci vediamo alla prossima video recensione ovvero la sua ciao 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 Grazie.